Sono 20.000 tifosi dal Cagliari, di fronte nella B si fanno sentire i 3.000 sostenitori dell'11 di Mutti. Si segnala la presenza degli ex di Bitonto, Herrera e Oliveira. Quando l'altoparlante chiama Cagliari con Stercare, Pancaro, Bettarini, Sanna, Scugugia, Minotti, Muzzi, Berretta, Silvo, Nile e Tovalieri è un boato. Arbitra Braschi, direttore di gara di Polso, l'uomo che sembra giusto per uno spareggio da brividi. Nel Piacenza, come previsto, Mutti preferisce Valtolina a Moretti. In avanti, Luiso fa coppia con Piovani. Tentoni va in panchina. L'avvio non è felice per il Cagliari, che va sotto dopo appena 7 minuti di gioco. Il gollo firma Luiso, pronto a raccogliere una respinta corta di Stercare, su una conclusione in diagonale di Di Francesco. Nella curva a quella dei Sardi scende il gelo nonostante i 30 gradi del San Paolo. La prima azione dell'undici di Marzoni è al decimo. Il colpo di testa è di Minotti sul cross di Pancaro. Marzoni in panchina è una furia. Il Cagliari trova coraggio ed in tre occasioni va vicinissimo al pareggio. Prima con Tovalieri sul lancio di Sanna, poi è Silva ad impegnare Taibi sull'invito di Bettarini. Ed un minuto dopo, proprio su un raso terra del mancino toscano, è mischia fuoribonda in area emiliana. Si infortuna la testa Taibi in uno scontro con Silva. I tifosi Sardi riprendono coraggio. La curva ha ribolle. Il Cagliari schiaccia i piacentini nella loro metà campo. Alla mezz'ora Taibi fa gli straordinari. Prima anticipa Muzzi sul cross di Pancaro e poi, sugli sviluppi della stessa azione, devia il gran diagonale ravvicinato di Silva. Cinque minuti dopo è bravo anche Stercare quando interviene in due tempi sul bolide di scienza. Replica Onilla con una conclusione dei 30 metri che Sibila accanto al palo alla sua destra. Al 39esimo il raddoppio dei piacentini. Autogol di Berretta sulla violenta punizione di Piovani. Il Cagliari va in barca e dal 41esimo Braschi assene il rigore agli emiliani per l'atterramento di Luiso che si scontra con Scugugia. Batte Valtolina e Stercare fa il miracolo che tiene in corsa la squadra di Mazzone. L'estremo difensore cagliaritano si ripete in chiusura del primo tempo quando salva in uscita disperata sull'imprendibile Luiso. Nella ripresa Mazzone gioca la carta Cozza e il trequartista calabrese prende il posto di Sanna. Subito una palla buona di Bettarini per Tovarieri che tira sporco. Si infortuna Valtolina che viene sostituito da Pin. Al 13esimo la grande occasione Tovarieri che da buona posizione sbaglia la mira. Al 25esimo il Cagliari finalmente accorcia le distanze con il Cobra Tovarieri che sfrutta da campione l'assist di Cozza. La partita si riapre dopo i rischi corsi sui contropiedi dei biancorossi in avvio di ripresa. E adesso c'è una sola squadra in campo. Il Cagliari di Mazzone sospinto dai 20.000 della curva A. Al 29esimo Mazzone inserisce Tinclair al posto dello stanchissimo Muzzi. Ma il Cagliari con il passarete dei minuti si spegne distrutto dal caldo e dalla fatica. Il Piacenza amministra il gioco. C'è un silenzio di incredulità anche tra i tifosi rosso-blu. Luiso realizza la terza rete. Alle 18.25 il Cagliari precipita in Serie B pagando gli errori di una stagione nata nella confusione e finita tra molte lacrime. Per esempio quelle del Cobre e di Muzzi che vanno sotto la curva Nord per ricevere gli applausi che meritano. inizia il lungo viaggio di ritorno del popolo rosso-blu.